pasta con le melanzane ingredienti 300 g di maccheroni rigati 4 melanzane di media grossezza una tazza di salsa di pomodoro casalinga una mozzarella una cucchiaia di burro 2 cucchiaiate di parmigiano grattugiato olio di oliva per friggere sale pepe in grani preparazione 40 minuti cottura 20 minuti difficoltà minima per quattro persone lavate e spuntate le melanzane quindi aspettateli in senso trasversale salate leggermente mettetele sul piatto inclinato in modo che perdano un po della loro acqua di vegetazione quindi asciugate le in un telo fate scaldare l'olio in una padella e friggite le melanzane fino a quando saranno dorate scolatele mettetele su un poio di carta di tipo assorbente salatele e pepatele portate ebollizione una casserola di acqua salata versatevi i maccheroni e fate di cuocere tenendoli al dente scolateli passateli sotto l'acqua fretta per fermare la cottura e conditeli con la salsa di pomodoro affettate la mozzarella mettete in una piropola strati la pasta alternando ogni strato con uno di mozzarella e uno di melanzane cospargete la superficie di burro e parmigiano disponete a raggera alcune fette di melanzane frite di mozzarella quindi mettete la piropila in porno a 180 gradi per 5 a 20 minuti consigli per rendere il piatto più delicato pennellate le fette di melanzane con un emulsione di olio e succo di limone appoggiatele su una teglia e cuocete tutto il grill per due minuti su ogni lato finché saranno dorate